Vi giuro, vi giuro, Mario guarda la storia di Kasumi, è la quarta volta che vedo qualcuno che dice Mario guarda la storia di Kasumi, Mario guarda la storia di Kasumi, che c***o ci sarà mai in questa c***o di storia di Kasumi? Cosa c***o ci sarà mai? Segui Kasumi, vai da qua, vediamo questa storia del c***o, apri le storie, dov'è? Questa non è Kasumi, 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 questo 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 non è Kasumi, Ma la seguo nemmeno Kasumi Adesso mi devi delle spiegazioni Adesso Oh merda Ragazzi Chi ha per me bannato Kasumi Sen Chi ha per me bannato Kasumi Sen Dalla nostra chat Ma per favore Ragazzi ma mi potete creare problemi Veramente con tutti Ma che fotomontaggio Adesso mi devi delle spiegazioni Ma posso guardare la storia Kasumi Sen Mario mi devi delle spiegazioni adesso Che si ritrova per me bannata Porca d***a Ma poi ha scattato pure la foto Mentre sembra un lesto fante Non puoi inviare messaggi per tre giorni Un contenuto che inviato in una chat Violava le nostre linee guida di community Ma che sta succedendo Ma quale contenuto inviato Oh Mi hanno bloccato i direct per tre giorni Ma perché Ma io non ho inviato niente ragazzi Io non ho inviato niente Ma che c***o Ma che mando pisello Ma non è vero Ma perché mi hanno bloccato i direct per tre giorni Cosa ho mandato Datti una regolata Consulta le linee guida Ma si può vedere per cosa mi hanno bloccato Promuovi interazioni significative e autentiche Cosa ho fatto? Ma non è che per la storia del teatro Perché a me è venuta questa cosa Tipo abbiamo rimosso la tua storia Ma in realtà non è stata rimossa Ma poi mi hanno bloccato i direct Cioè io ero abilitato a mandare la storia del teatro Ci lavoravo porco Fare teatro non ti autorizza A mandare quelle foto Allora A parte che veramente Ma adesso io come lo dico a Kasumi Sen Che non ho fatto un c***o Che non le posso nemmeno rispondere Ma che cos'è questa? Un'agonia pura Parese sbagliato a mettere fotocanna Ma che fotocanna Non ho fatto nulla Ma figurati se io mando fotopene su Instagram Ma poi io non fotopene su Instagram Ma penso che non è che mi bloccano tre giorni Penso che mi fermabannino Kasumi sei qui Portate qui Kasumi per favore Fatemi parlare con Kasumi Non posso mandarle un messaggio Diamo una controllata a questi foteri Perché veramente non è cosa ultimamente Ma io quindi non posso scrivere a nessuno su Instagram Ragazzi sono bloccato tre giorni da Instagram Un contenuto che inviato in una chat Violava le linee della community Buonasera a tutti quanti Aspettate Io l'unica persona a cui ho risposto è Questo ragazzo che mi ha scritto Ma andò stai al Viterbo E io gli ho scritto Al quartiere liturgico Ma mi sembra una cosa normale Ma liturgico non Vai ragazzi Ma per favore Ragazzi Piuttosto Di dire vergogna a me Visto che non ho fatto un c***o Perché mi dovete mettere in questi guai con Kasumi Chi ha permabannato Kasumi Sen? Chi ha permabannato Kasumi Sen? Non ha fatto la richiesta Si è arrabbiata Ma ho fatto pure la storia Fammi fare la storia per Kasumi Kasumi Credimi Kasumi Credimi Ti prego Non sono stato io Ma guarda te Kasumi Credimi Non sono stato io I miei moderatori Per mi abbannano I colleghi Per mettermi Nei guai Con Nei guai Con tutti voi Sono Innocente Ma voi che Vi ha fatto Kasumi Sen Brutti porci Ma guarda te Non posso manco Inviare messaggi Non ha fatto le richieste E vi siete salvati Perché avesse fatto la richiesta Di riammissione Si capirebbe Chi l'ha permabannata Si può capire lo stesso? Eh? User Kasumi Sen Ban di Alex Air Per il 16 ottobre 2024 Alex 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 Ma che è impossibile Faccio pure la foto E la mando a Kasumi Ma come la manda a Kasumi Che c'ho i direct bloccati Porco L'ho sbannata Lasciate stare Kasumi Se si Sono stato io Con l'account di Alex Si perché io Ho il suo telefono Ma che manda Pec Smettila Fammi continuare Con questa live streaming Che io Alle 18 8 e 15 Devo staccare Ma che c***o Mi mandi Nella gogna Dei segaioli Solo per non Prenderti Le responsabilità Io ho detto Che hai permabannato Una persona Non che ti sei fatto Una sega Ma che c***o C'entrano i segaioli Ma non vedi Che sei un maledetto porco Grazie Mario Casualità Mi chiamo Luigi E tifo Inter Ah buono Mario bussa Rubino Che ti deve parlare Ma è vero? Mario perché l'hai fatto? Che è successo? Che succede? Che vuole Rubino? Cosa ho fatto? Non ho fatto niente Questa Mario Pronto? Pronto? Mario Mario Pronto? Ciao David Tutto bene? Mario Cosa è successo Mario? Che è successo? Allora io stavo Io stavo Mi hanno detto una cosa Mario Sturignolo Ti ha bloccato Io naturalmente Ehm Non ci credevo Sono stato bannato Della tua chat Perché? Cosa ho fatto io Di male Per una sbuciona Che non ti è piaciuta? No no Davide Non c'entrano Non c'entrano le sbucione Rubino Lasciami spiegare Lasciami spiegare Allora Però Se te lo spiego Mi devi credere bro Ehm Ehm Te lo può dire Kasumi Sen Gianmarco Ehm Grimbaud Cioè I miei moderatori Ehm Per ma bannano Dalla mia chat Tutti i miei colleghi In maniera tale Che voi Vi incazzate Contro di me E loro si divertono Ridendo sotto i baffi Capito? Io non Ti ho bannato Per nient'altro Mario dimmi la verità Cioè Mario No Rubino No La scusa dei moderatori È bellissima Eppure io dico I miei moderatori Insultano tutti Per finire Però Se c'è qualcosa No Ma Se vuoi ti abbraccio Ma Rubino Abbiamo fatto quattro boss Insieme Buonanima del Cerbero Ma figurati Se non Se ti direi Se non ti direi qualcosa Tipo Non mi sei piaciuto In questa E in quello Mi hai fatto fare Grasse risate Quando hai reattato Alla peer list Degli streamer Che continua Per dire Ma perché quinto Io quinto Invece da non ho cinque Io non sono cinque Io ho sesto E già è Già un miglioramento Perché là dicevi sempre Quinto Quinto Ma non c'era un quinto Era il numero Cinque Ma la mia chat dice Ti hanno messo quinto Io dando ragione A questi Cerbero Un po' così C'è il vero podcast No no Ti hanno dato cinque Vabbè dai C'erano pesce Billy Bella Due quarti della giuria Che Non ti devi offendere Perché tanto Billy Bella Là Mi ha detto Fai sempre Fall Guys Le ho mandato Su Whatsapp Cinque Cinque Delle mie ultime schedule Per fare le Vedere che ho fatto Due ore di Fall Guys E basta In una settimana Quelli non sanno manco Stare al mondo Poverini No 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 Billy Bella No si Billy Bella L'ha chiamata Amazon Prime Ha fatto il doppio Del mio percorso Secondo me Secondo me c'è sta Secondo me c'è sta Secondo me c'è sta Io non vorrei Ma scusa Stai veratamente insultando Pesce No Pesce Che ho un bene Dell'anima Pesce Dio caro Ah bene Allora Tutti quanto bravi No lo dico Io ho visto La tier list È un modo Per scherzare I giudizi Secondo me Non sono nemmeno Veritieri Quindi Non ti offendere Ma proprio come consiglio Del tipo L'hanno buttato là Anzi Secondo me Hanno pure pensato Avantguardisticamente Che avrebbero avuto La tua reazione Di questo tipo Io sinceramente Non respiravo Da ridere Infatti Dario Mi ha messo Il numero uno Io caro Lo sapevo Però allo stesso tempo Anche Dario scherza Ti ha messo uno No no Perché la tua chat Quando ho detto Che era un insulto Verato a pesce Hanno tutti fatto No 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 A pesce Ti voglio un bene dell'anima E ti hanno dato del falso Cioè Quello al liconcino Del moderatore Ma pesce io io bene Non lo so Ma una certa è particolare Ma una certa è particolare Oh guarda Io non si indagherei oltre Io Bro Mi hai fatto un piacere dell'anima Sentirti Anche a me Mario Non ci sentiamo mai Non c'ho manco più Il numero uno Poi te lo ridò Magari in chat di Instagram Io sono un tipo Molto volatile A livello di cellulare Però Minchia se mi ricordo Quanto ci siamo divertiti Mi ricordo anche La prima volta Che ci siamo visti Tu con quel cappellino Della Roma E Agli studi Evox Per fare il cerbero Ti voglio bene Bro ti posso dire una cosa Che sono rimasto male Mario Cioè In quattro anni De Boscar Non ho manco mai vinto Una statuetta Bro dovremmo fare il Rubino Boscar E dare tutti i premi a te Altro che Londini Sì infatti Miglior attore Davide Rubino Secondo migliore di spalla Rubino E ti dico anche Che Se non fosse per un grande Leggendario giocatore di calcio Saresti l'ottavo Red di Roma Ma purtroppo Per forza di cose È Stefano Mauri Non ho capito Non ho capito scusami Scherzavo 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 È Francesco Dotti L'ottavo Red di Roma Scusami Ho capito un altro nome particolare No Ho avuto un love su Freudiano Bro Ti voglio un sacco di bene Saluto la tua Il tuo pubblico Anche io Ciao 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 Sbannate Rubino Per favore Sbannate a David John Rubino Per favore Che ci ha fatto Una marea Di piacere In questi anni Se lo merita proprio Davide Laziale Lo sta insultando Non è Laziale Bro Per favore Tieni calmi Tony Che è un tipo Abbastanza vulcanico E su queste cose Non si deve scherzare